Ciao a tutti i softwareisti Softgunner, bentornati su Airsoft Caesar. Io che vi parlo sono Caesar e oggi facciamo una veloce recensione di questo bellissimo Spitfire Tracer, gentilmente offerto ovviamente da Army Softair. Il padrone di Army Softair Omar Sarcoli è un grande appassionato di software, ovviamente se no non potrebbe fare questo mestiere e trova sempre delle chicche veramente impressionanti. Questa è una di quelle, non utile ma veramente figa e molto bello. Che cos'è questo Spitfire Tracer? Intanto vi faccio vedere il contenuto della scatola e poi ve ne parlo in maniera più approfondita. Boom, eccoci tornati. Questo ovviamente è il Tracer. Allora, non è come tutti gli altri Tracer che potete trovare in commercio di altre marche, è fatto molto bene e inoltre ha delle diverse modalità, diciamo, di fuoco. Che vuol dire? Che praticamente può essere utilizzato o soltanto come tracciante, quindi con i classici pallini dedicati eccetera, oppure può essere usato anche in modalità doppia che è tracciante più un flash arancione luminoso che simula la fiammata e questo è veramente figo. Ma cos'è la figata assurda? La figata assurda è se questo Tracer viene utilizzato in combo con una ASG-JBB a gas. Ci sono vari video, uno fra tutti sul tubo trovate un ragazzo che lo monta su un GHK, una KGHK e vedete che veramente sembra che fa la fiammata perché il gas fuori uscito viene illuminato con questi LED arancioni e sembra veramente la fiammata di un'arma vera, quindi veramente spettacolo. Inoltre ha delle batterie ricaricabili al litio della durata di 4 ore o 20.000 pallini che si può ricaricare con questo cavetto USB-USB mini. Abbiamo anche un adattatore per poterlo montare sulle pistole, sempre nella scatola. Adesso ve lo smonto e vi faccio vedere com'è. Praticamente basta semplicemente svitarlo in questa maniera e qui troviamo tutta l'unità Tracer con la batteria e in cima, vicino alla volata, come potete vedere, l'ingresso USB mini per la ricarica. Quindi veramente una figata, facile l'utilizzo. Ovviamente usa anche una tecnologia diversa di LED, molto più potenti rispetto agli altri Tracer, quindi anche una qualità della luce molto maggiore e molto migliore. Che dire, veramente una grandissima figata. Se vi interessa l'oggetto ve lo faccio vedere rapidamente. Qui troviamo scritto Tracer Made in China, qua troviamo bellissimo il maialino che sputa a fuoco. Questa è il frontale da dove ovviamente questa parte escono i LED, esce la luce, insieme al pallino. Veramente molto bello. Qua troviamo praticamente la selezione della modalità e la spia per il discorso della ricarica della batteria. Quindi veramente molto molto bello, ben fatto, con diverse ovviamente nuove soluzioni. Se siete interessati ovviamente vi lascio il link in descrizione della pagina di Armi Softair dove lo potete acquistare. Ha un prezzo veramente concorrenziale. E niente, io questa velocissima review è finita. È veramente un oggetto interessante. Un oggetto che può veramente far gola a tanti softgunner. E vi dico che sta avendo un successo senza pari. Cioè, nel senso che praticamente sta veramente vendendo un botto. Quindi, se lo volete, sbrigatevi ad ordinarlo perché Omar gli stanno andando via come il pane. Detto questo, a me non mi resta altro che chiedervi un bel like al video, azionare la campanella delle notifiche, condividere il mio video e commentate per farmi sapere che cosa ne pensate di questo Tracer. Come vi ho detto, secondo me è poco utile, però veramente dà un effetto scenico pazzesco che può essere gradito ad alcuni softgunner. Bene, non ho altro da dirvi se no salutarvi. Ciao softgunner, alla prossima!